Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Assassin's Creed The Exile Collection. Allora forse ciò che possiedo aiuterà entrambi, un elenco di altri cospiratori. Uno di essi parlerà prima di morire. Splendido! Quegli uomini non hanno le risorse di Jacopo, il che li renderà più facili da trovare. Manderò immediatamente delle spie. Apprezzo il vostro aiuto, zio. Ho anche qualcos'altro per voi. Nuove pagine del codice. Ah, vediamo cosa possiamo apprendere. Che vuole dire? Quale profeta? Che avete trovato, zio? Un altro maledetto mistero. Il testo tradotto vagamente significa solo il profeta può aprirla. Si fa riferimento a due frutti dell'Eden, ma queste pagine non danno risposte, nipote, almeno non da sole. Devi trovarne altre. Dovremo aspettare un altro giorno, zio. Ho una missione da compiere. Come vuoi. Ora, se puoi far fuori quei bastardi, dovrò insegnarti qualche altra cosetta. Vediamoci al campo di addestramento. Incontra Mari al campo di addestramento per allenarti. Ok. Va bene, Ezio. Conosci il contrattacco, ma che succede se anche il tuo avversario sa contrattaccare? In genere non gliene dò l'occasione. I paroloni offrono scarsa protezione dall'acciaio dei Templari. Allora vi prego, maestro. Insegnatemi cosa fare. Ora schiva! Bene, bene. Adesso rifammo. Molto meglio. Ora un'ultima volta. Bravo. Vediamolo un'altra volta. Ancora una volta. Figo questo, eh? Magnifico! Ancora una volta hai superato le mie aspettative. Signore, abbiamo trovato gli uomini di Jacopo e aspettiamo l'ordine di colpire. Riferisci questo. Nessuno si muova finché non avrà parlato con Ezio. Intesi? Sarà fatto. Vai Ezio, parla con i miei uomini sparsi per la regione. Vedi se i tirapiedi di Jacopo riescono a condurti a lui. Ma sii caldo, quelli ti aspettano. Manovre evasive. In sincronia. Ok. Allora, dirigiamoci verso gli uomini di Jacopo dei Pazzi. Capaccia di disarmare appresa. Figa la capacità di disarmare, soprattutto se becchiamo qualcuno con un, come si dice, un potere, un attacco più forte del nostro. Allora, da che parte possiamo passare per uscire? Ancora non me so. Ancora non me imparo l'uscita da qua. Allora, c'abbiamo l'icona viaggi rapidi, che dovrebbe essere questa. Vediamo un po'. Qual è l'icona viaggi rapidi? È questa? Firenze. Forse a Firenze dobbiamo andare. Santa Maria. Da che parte è? Ah, ma è a pagamento. Ma te passi sono caricate. Ma stiamo a due passi, poi. Prendiamo il cavallo. Prendiamo il cavallo. Prendiamo il cavallo. Andiamo. 157. Addirittura i viaggi rapidi si pagano. Cioè, questo è fighissimo. Ci abbiamo due e cinque. Manco tantissimo. Io arrivo almeno un'altra volta a diecimila, ragazzi. Con un po' di missioni per... A San Gimignano dobbiamo andare. Infatti, pensate, andiamo a Firenze. Invece, andiamo a San Gimignano. Perché voglio comprare una bella cosettina. Una bella armetta. Perché adesso siamo abbastanza protetti come corazza e armatura. Ci serve qualcosa di... Oh, cacchio. Oh, cacchio. Qua siamo completamente rossi. Dobbiamo andare a due gruppi diversi, sembrerebbe. Se non tre. Allora. Questi... Pensateci voi, va. Io vado a fare la missione. Allora, siamo arrivati alla prima guardia. Vediamo un po' dove sta. Più l'altro non so come riusciamo a farla parlare. Sta qua sotto. Eccola. Infiltra l'abbazia e uccidi Stefano da bagnone. No, ciò che dico è vero. Ma negare la sua divina esistenza è l'unica risposta razionale da opporre all'assunto... Solo che non si muove nessun altro qua, regà. E credetevi. Se la vostra preziosa Bibbia è il meglio che hai riuscito a trovare, è bene. È completamente... Cosa ci fai qui? Che cosa vuoi? Ok. Buoni. Sta all'asta. Ma prendo questo gruppo di... Ma avete ragione. Non vedrò se non mi d'abito. Che figlio. Perché questo si stanza? Aspetti. Dove è ancora? Raggiù. Cosa vuoi? Raggiù. Sei amico o nemico? Ok. Ciao, Ne. Adesso vedrò chi aveva ragione. Dov'è, Jacopo? Non ho nulla da temere ormai. Si incontrano all'ombra degli dèi romani. Ora sei libero dalla paura. Requiescati in pace. Ok. Via da qua. Cacchio. Scappa. No, no. Cacchio, fai. Come il bersaglio sta fuggendo se l'ho ucciso. Ok. Via da qua, via da qua. Via da qua, via da qua. Scappa, 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 scappa. Perfetto. Ottimo. Ci stanno anzi qui? Via, 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 via. Diamante, diamante. Ok. A posto. E uno ce lo siamo fatto. Sparato. Ma ci abbiamo subito il prossimo. Che mi servirebbe comunque. Sacca da bombe fumogene ottenute. Un cavallo per raggiungere la prossima meta. Perché per scappare non sono potuto andare dal cavallo. Vediamo un po' se troviamo qua un cavallo disperso. Vabbè, tanto ai fini pratici comunque non sono ambienti immensi che per forza poi serve un mezzo. O un animale per spostarci. Pure qua ce lo riusciamo a gestire abbastanza bene. Allora, da quello che sto vedendo e da quello che sto cercando di capire. Dobbiamo uccidere, presente, ben quattro nemici. Quindi tutti e quattro i bersagli. Per poter poi arrivare a Jacopo dei pazzi. Perché, vedete, già ne abbiamo ucciso uno. Guardate che strano quando camminiamo se illumina per terra il pavimento. Cioè, ah, eccolo, il cavallo sta qua. Ormai siamo arrivati. Allora, dobbiamo parlare con il nostro secondo uomo. Quindi con gli uomini di Zio Mario. E con questo sicuramente dovremmo... Ci dovrebbe dire dove trovare il secondo da killare. Dove? Qua dietro. Abbiamo trovato l'arcivescovo Salviati. Si è barricato all'interno di quella villa. Usa alcuni dei miei uomini per aprirti la strada. Quindi trova il modo di scalare il muro per aprire la porta. Ah. Comandare un'armata tutta mia. Un piacevole diversivo dal solito agire in furtività. Mi piace. Ok. Con l'aiuto dei mercenari di Mario sconfiggi le guardie della villa e uccidi Francesco Salviati. Bene. Andiamo? Bene. C'è questa missione che mi piace. E uno. Ce lo fammo secco. Due. Ce lo fammo secco. E tre. Ce li facciamo secchi. Andiamo. Posto? Possiamo andare. Venite? Andiamo, regà. Allora. Qua altri nemici. Ok. Come faccio questo? Che grosso. Questo è tosto, eh? Oh. Carcogane. Ma non mi che lo riesco a con... Oh. Che sope. Il santo il cielo. Cacchio. Ok. Ma perché non riesco... Questa mi sta a massacrare, regà? Scappa, scappa. Non riesco a che uccide questo. Questo è troppo forte per me. Cioè non riesco a respingere gli attacchi. Cioè non so come cacchio fare. Quanti cacchiate guardi ci stanno? Aspettate che... Volevo prendere... Un attimo un po' di energia. Poi qua che abbiamo? Le lame... Avvelinate. Oh. Mamma mia. Non so come cacchio ho fatto a ucciderlo. Ma ce l'avremmo fatta. Ok. Allora andiamo qua. Che c'è un miliardo di nemici alle spalle. Quanto riesci a correre, eh? Forza. Vieni qua. Forza. Dai zio Mario, aiutami un po' con tutta sta gente. Ce la so proprio tanti. Ollè. Ok. Andiamo. Corri, corri, corri. Qua stanno due contro uno. Stanno due contro uno. Forza. Oh. Oh ma si matto. Ma si... Oh. Ok. Ma stanno le a un botto di energia a sta cacchio di missione, eh? Perfetto. Ok. Dobbiamo riuscire a entrare nella villa. Come cacchio facciamo entrare nella villa? Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Fammi c'è il giro intorno. Sei la beppa. Sono miliardi, so. Ma guarda quanti ce ne stanno. C'è, regà. Possibile. Questo è il più forte... È il più... È il nemico più tottivo. Guarda quanti. Regà, sono un miliardo. Non puoi scappare, passato. Oh, me lasci in pace. Sto cercando di farmi... Tutta la parete, ma non mi sembra che si possa girare. Forse devo veramente scavalcare il cancello, ragazzi. Ecco tutti i miei amici. Aghia. Oh, e muore. Forza. Fateli tutti secchi. Oh. Questi col... Con sto cacchio di martello mi stanno a mettere più in difficoltà rispetto agli altri, eh. Ok. Metta questo. Non ci diamo le spalle. Oh, la la cosa è una caccia? A posto. Ok. Andiamo. A posto. Perfetto. Andiamo qua. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, le. Andiamo. Non so quanti ne abbiamo uccisi, regà. Solo che qua come cacchio facciamo entrare? Eh, regà. Non c'è sta modo da rampicasse. Non ne vedo. Ma se può tipo comandare qualcosa? Andiamo un po'. Occhio, attacca. Agguanta. Non vedo modo... Questo qua su. Aspetta che voglio vedere una cosa. Questi sono i pugnali. Aspetta che voglio vedere una cosa. E' un po' di acqua. E' un po' di acqua, se c'è qualcuno. Che passa? Cosa è successo qui? Che ho? Questi stanno tutti qua, ma... Posso fare niente, regà? Certo. C'è stan cacchio da fare. Possibile? Mi sfugge qualcosa? Cosa? 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 Ok, pure tu muori. Tutta sta gente che cacchio vuole? Oh, dov'hai? Amante! No, no! Via, via, via. Via, 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 via. Sare qua sopra. Ok. E muori. Dai, forse abbiamo passato a... No! Perché mi hai fatto cadere? Famone. Dai, dai. Forse abbiamo passato a qua, regà. Dai. E dai! E muori! Mamma mia. Te stesse storie. Oh, oh! Cacchio fai! Ok, rivieni su. Rivieni su, ti ho detto. Ti ho detto di venire su. Vieni. Ok. Andiamo. Allora, l'arcere. Lo favo subito secco. Il canto ha protezione pari a zero. Perfetto. Questo sta ancora qua. E ancora mi rompe l'anima. Sali su. No! Tu cacchio! Aia! Oh! E uno è andato. Su! Ok. I due sono andati. E basta. Ma perché non mi lasciano in pace? Olè! No, no, no. Rampicate. Perfetto. Perfetto. Ah, possiamo passare da qui. Olè! Uomini! Preparatevi! L'assassino è arrivato! Devo trovare il modo di aprire la porta. Ok. Allora, ce l'abbiamo proprio sotto, eh, regà. Ti avevo avvertito di stare alla larga, assassino. Dovevi darmi ascolto. La mecelata e me le mette? Spada, la mecelata. Ok. Mamma mia, che gli ho fatto. Apriamo qua. Perfetto. Allora, dice di aprire una porta, ma questa è chiusa. Questi hanno una mazza. Potrebbe essere. Muori. Oh, che cacchio è? Si è sollevato in aria. E muori. Ce ne sta. Perfetto. Mattene giù. Quanti cacchio so che rompono l'anima, regà. Cioè, ma sono boato oggi, eh. Perfetto. Che poi qua, gli amici nostri, manco possono entrare. Ci possono aiutare solamente sul fuori. Perché poi per il resto... Dai, dai, amano. Ole. Mamma mia. Guarda quanti sono e stanno. Altri tre. Non vedo niente. Vai, vai così. Oh, oh. E lasciami perdere. A posto. Poi, che c'abbiamo che ammazza quello? Le lame. A posto. Sei finita, assassino. Mi senti? Mamma mia. Cioè, è pieno, regà. Voi templari. Sempre a dire le stesse cose. Credi che io mi spaventi per qualche mercenario? Dovresti. Aia. Devo mandare i tuoi retti a quell'ubriacone di Mario. Perché a quell'ubriacone di Mario? Ma come cacchio deve permettere di sio? Non c'è niente da riconoscere. Hai un piano notevole. Urlare idiozie mentre mandi questi uomini a morire. Sono un uomo ragionevole. Ti faccio una proposta. Torna indietro e richiamerò i miei uomini. Mi spiace, amico. Sei nel mio elenco. Il tuo destino è segnato. Fatelo, Brantel. Voglio tingere i muri con il suo sangue. Non si trattano così gli ospiti. Ma che accade? Guardi. A me! Oh, ma questo... ... ... Grazie a tutti. Dov'è Jacopo? Sa che lo stai cercando. Esce solo con le tenebre per incontrare gli altri. Questo riguarda il quando. Ora dimmi d'ora. La fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescate in pace. Mamma mia, che devasto che abbiamo fatto ragazzi a sta missione. Devasto puro. Perfetto. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. E noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale. Mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video. Sempre qui. Sempre sul mio canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.